canto 33 le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali alternandosi in due cori e piangendo cominciarono a cantare il salmo del lamento per la distruzione di gerusalemme o signore le nazioni sono entrate nella tua eredità hanno contaminato il tuo santo tempio beatrice sospirava e pietosa le ascoltava mutata in volto per il dolore quasi come maria quando vide il figlio in croce ma poi quando le sette vergini tacendo diedero a lei la possibilità ed il modo di parlare essa levandosi dritta in piedi rispose accesa in viso per il santo zelo con la speranza di un risorgere della chiesa con le parole dette da gesù agli apostoli durante l'ultima cena alludendo alla propria morte prossima e della successiva resurrezione con queste parole facendo seguito al lamento per la rovina della chiesa annunciava che questa tra breve tempo avrebbe toccato il punto più basso ma poi sarebbe risorta corretta e riformata nei costumi come cristo risorse alla vita eterna ancora un poco e non mi vedrete mie dilette sorelle e un altro poco e mi rivedrete poi con un solo cenno beatrice fece andare innanzi a sé tutte le sette virtù e dietro di sé fece muovere me matelda e stazio così andavamo e non credo che avesse fatto dieci passi quando mi colpì con il fulgore dei suoi occhi con un atteggiamento però ormai rasserenato e fiducioso dopo lo sdegno poi serenamente disse affrettati cosicché se ti parlo tu mi possa sentire e non appena io fui al suo fianco devotamente come era mio dovere beatrice mi disse fratello mio perché non osi pormi alcuna domanda ora che sia al mio fianco e così come a coloro che dinanzi ai loro superiori sono troppo riverenti e non riescono a parlare a voce piena capitò a me che con voce spezzata dall'emozione cominciai a dire mia signora voi conoscete ciò di cui ho bisogno e ciò che è utile che io sappia e che giova il mio bene ed ella a me voglio che ormai ti liberi dal timore e dalla vergogna cosicché non discorrerai più così confusamente come se parlassi nel sonno sa che il carro colpito dal drago è la vera chiesa ma ora non ha più la sua unità però i colpevoli di questa corruzione siano certi che la giustizia divina non teme alcun ostacolo non resterà per sempre senza re dell'aquila imperiale che lasciò le sue penne nel carro per cui quello ossia la chiesa divenne un mostro e poi preda del gigante vedo infatti con certezza in dio e perciò lo rivelo che stanno per sorgere quelle stelle le quali libere da ogni ostacolo ci recheranno con la loro influenza un tempo nel quale un condottiero inviato da dio ucciderà la ladra assieme al gigante che pecca con lei forse la mia profezia ti oscura come quelle di temi dea della giustizia della sfinge e non ti persuade perché come le loro è incomprensibile ma presto i fatti saranno spiegati dalle nagliadi che risolveranno questo difficile enigma senza che temi per vendetta devasti le messi abatta il bestiame rammenta e come te le ho dette scrivi queste parole per i vivi la cui vita non è che una corsa verso la morte e ricordati quando le scriverai di non nascondere le condizioni in cui hai visto questa pianta che è stata saccheggiata per due volte una dall'aquila e una dal gigante chiunque deruba questa pianta o ne distacca delle parti offende dio con un atto blasfemo perché la creò sacra affinché servisse sola ai suoi scopi per aver morso il frutto di quella pianta l'anima del primo uomo penando e soffrendo per cinquemila e più anni bramò cristo e cristo riparò con il suo sacrificio il peccato di quel morso sei poco arguto se non capisci per quale eccezionale ragione questa pianta è tanto alta e con la chioma così capovolta ossia dilatata in cima e ristretta in basso i tuoi pensieri mondani hanno incrostato la tua mente come l'acqua calcarea del fiume elsa e il compiacimento che provai nell'averli ammacchiato il tuo cervello come il sangue di piramo morente macchiò i frutti del gelso per questo non riconosci anche solo per questa sua forma particolare che l'albero rappresenta moralmente la giustizia di dio evidente nel divieto di coglierne i frutti ma poiché vedo che la tua mente è pietrificata e oltre che pietrificata è anche ottenebrata a tal punto che la luce delle mie parole ti abbaglia voglio che porti con te il mio discorso se non trascritto esattamente parola per parola almeno portalo ad ombrato nelle immagini come chi ritorna dal pellegrinaggio in terra santa porta con sé il bastone coronato da foglie di palma e io a lei così come la cera conserva inalterata la figura impressa dal sigillo ora il mio intelletto è improntato in modo indelebile dalle vostre parole ma come può accadere che la vostra parola che io ho tanto desiderato si elevi così in alto al di là delle mie capacità intellettuali che quanto più la mia intelligenza si sforza di capirla tanto più la mia intelligenza la perde di vista e meno la intende questo accade perché tu conosca quanto valga davvero la filosofia da te finora seguita ti devi rendere conto come i suoi insegnamenti non riescano a penetrare la sapienza divina devi vedere come la scienza umana disti tanto da quella di dio quanto il cielo cristallino dalla terra per cui io gli risposi io non ricordo di essermi mai allontanato da voi né di ciò provo rimorso se non riesci a ricordartelo ti rammenti però che oggi bevesti l'acqua dell'ete se dal fumo si deduce la presenza del fuoco da questo tuo oblio si deduce chiaramente che era un peccato e rivolgere altrove i tuoi desideri ma d'ora in poi del resto le mie parole saranno tanto esplicite quanto sia necessario per renderle accessibili al tuo intelletto impreparato il sole divenuto più fiammeggiante procedendo più lentamente di prima occupava il meridiano che si sposta ora qua ora là a seconda dei punti di vista e di osservazione da cui uno guarda il cielo era dunque mezzogiorno quando le sette dame si fermarono così come si ferma chi va avanti ad una compagnia con il compito di guidarla qualora trovi davanti a sé nel suo cammino qualcosa di insolito o tracce di novità appunto le sette donne che reggevano i sette candelabri si fermarono al margine di una zona d'ombra più attenuata rispetto all'ombra più cupa della selva un'ombra simile a quelle che la montagna produce spande sui suoi freddi ruscelli con il fogliame verdeggiante e di suoi rami scuri mi parve di veder dinanzi alle sette donne i fiumi tigri ed eufrate che uscivano dalla medesima sorgente ed allontanarsi in direzioni diverse come due amici che per il dispiacere di separarsi procedono lentamente o beatrice tu che sei luce e gloria dell'umanità che acqua è questa che scaturisce da una stessa sorgente si allontana da se stessa dividendosi in due diversi rami domandano alla contessa matilde di canossa che è qui con noi e matelda rispose come fa colui che si giustifica da una colpa questa cosa e altre glielo già spiegate e sono certa che l'acqua dell'ete non può avergliene cancellato il ricordo forse un pensiero pressante che spesso ci distrae dal ricordo gli ha fatto scordare le tue parole ma vedi leuno e che si allontana dalla sua sorgente conducilo adesso come hai già fatto prima e ravviva in lui il ricordo delle sue buone azioni come un'anima nobile che non cerca pretesti per adempiere il suo compito ma fa propria la volontà degli altri appena questa si manifesta esteriormente con qualche segno matelda la bella donna mi prese per mano e si mosse e disse a stazio con la grazia degna di una donna raffinata vieni con lui se io avessi o lettore più tempo per raccontare continuerei a cantare anche in parte per quel che mi è possibile con la mia arte quanto sia dolce il bere le acque dell'euno è tanto che mai mi sarei saziato ma siccome ormai sono ripiene tutte le carte già predisposte come l'ordito della tela che erano destinate a questa seconda cantica ciò non mi consente di dilungarmi oltre di proseguire al di fuori di una rigida disciplina narrativa io ritornai dalla santissima acqua dell'euno è rinnovato come le piante giovani si rinnovano di nuove fronde purificato predisposto a salire in cielo fra le stelle